Davanti a disastri ambientali, crisi economiche, pandemie, troviamo sempre la forza di reagire, ma occorre responsabilità. Il comportamento di ognuno di noi pesa sul futuro di tutti. Assieme ai nostri medici, i nostri volontari e le eccellenze di ogni settore, siamo il Veneto che corre verso obiettivi sempre nuovi, il Veneto che non si ferma. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.